Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua per analizzare il Fantasy Foot Team 2, analizzeremo tutti i giocatori, quindi una sorta di preview perché ovviamente esce dopo 20 minuti all'uscita della promo. Votate subito nei commenti quali giocatori di quelli che vedremo oggi vorreste avessero una review dedicata con il gameplay, quindi magari anche domani alle 14, che sia un Perisic o un Aleksandro o cosa, fatemelo sapere nei commenti. E oltre a questo vi ricordo anche che ieri, no non è vero, l'altro ieri, è uscito il Faccio delle vostre squadre insieme al buon Crazy Fat Gamer analizzando Antonio e Baldè, Baldè tra l'altro provato in game. Quindi fatemi sapere, insomma, le vostre squadre in quel video cliccando sulla i, ma adesso siamo qua per parlare del Fantasy Foot. Iniziamo non col team ma con l'obiettivo l'SBC come al solito. Innanzitutto ricordo che il Fantasy Foot sono giocatori destinati a lasciare segni una lotta di fine stagione perché introduce un nuovo livello di oggetti dinamici che possono ottenere un bonus massimo di più tre in base alle prestazioni individuali nelle prossime cinque partite di campionato al primo di aprile, quindi praticamente da qua in avanti al ritorno dai nazionali. Questo è importante perché ovviamente ogni carta va ponderata e considerata al suo valore anche in base al campionato in cui gioca, la squadra in cui gioca, gli obiettivi, quanto gioca il giocatore, eccetera. Il Fantasy Foot poi l'abbiamo spiegato bene nell'altro video, quindi recuperatevelo. Qua sotto vedete l'immagine che lo spiega, però se volete una spiegazione fatta bene non mi riperdo, l'ho spiegato già in altro video, recuperatelo cliccando la i. Tralasciando questo, allora, innanzitutto negli obiettivi abbiamo l'Ocelso, l'Ocesso, che richiede due assist con centrocampisti, due gol da fuori area, cinque partite vinte e sette gol di precisione, quindi sette partite con dei gol, eccetera, con tutti i giocatori acquistati da meno di 2.000 crediti l'uno e nell'amichevole dedicata. L'Ocelso è un giocatore 4-3, quindi non è malvagissimo in fase di impostazione, però ovviamente sarà limitato in termini di dribbling, eccetera. In fase difensiva è inutile perché ha 70 lettura difensiva, 76 di lettura di intercettazione, fisicamente ha solo 77, sicuramente ha un buon controllo per essere un centrocampista, ma niente di eccezionale, bravo nei passaggi, tira bene ma non finalizza una velocità decente. Diciamo che questo se prende più 3 diventa 90, potrebbe raggiungere una versione decente, ma nella versione attuale da 87 è un me assoluto, quindi bisognerà vedere che livello raggiunge, può sempre aver senso sbloccarlo se ne avete il tempo. Mentre nella sfida creazione rosa abbiamo una carta che sbloccherò immediatamente, non adesso in qui, ma la sbloccherò stanotte. Perisic che richiede 82-84-85 contro TOTV, il buon Ivan Perisic è un 4-5, ovviamente essendo uscito con questa promo non ha ricevuto upgrade nelle stelle skill, comunque come prezzo non penso costerà veramente un prezzo assurdo, sto cercando di verificare da footbin, così a occhio non c'è ancora, però secondo me massimo un 200k ce la caviamo, portarlo a casa più o meno, quindi su un prezzo simile o poco più comunque è ok. Buona velocità scatto, ricordiamo che può ricevere un più 3, comunque l'Inter è una squadra che potrebbe portare a casa alcuni di questi risultati, Perisic sta giocando e a livello di fisico ha 86 forza fisica, quindi sicuramente fisicamente ben messo, resistente, forte di testa, sembrava nei passaggi, non eccellente nei passaggi a lunga distanza, una visione decente, quindi non sarà particolarmente preciso nei passaggi complicati e non avrà la visione di metterla in maniera complicata in posizioni difficilmente gestibili. A livello di tiro dovrebbe essere bravo con entrambi i piedi, essere un buon finalizzatore ma non assurdo, tirare forte, sapersi posizionare, inserire, eccetera, e bisogna vedere il dribbling perché il body type potrebbe incidere pesantemente, negativamente o positivamente, perché comunque l'agilità dice che c'è, dice che ha un buon equilibrio, un buon controllo di essere bravo il dribbling, però bisogna vederlo in game. A questo prezzo per me vale la pena perché può ricevere un P3, quindi anche in questa versione è forte e a sinistra abbiamo veramente poche alternative in Serie A, quindi secondo me li vale tutti. Fatemi sapere poi anche voi cosa ne pensate. Tralasciando questo, ora invece parliamo del Team 2, che vediamo qua con Dembélé, Coutinho, Martial, Gabriel Martinelli, Alessandro, Bamba, Sissoko, Pedro, Rodrigo, Atal, Sirigu, Vertonghen e Incapie. Ora, qua abbiamo tante carte interessanti, ecco, questo è tipo il primo fail della giornata, ecco, ora tutto funziona. Dembélé, 98-97, di accelerazione velocità scatto, quindi sicuramente corre tanto, a livello di tiro è indubbiamente forte, poi un 5-5 di base già di suo, passaggio eccezionale, agilità, dribbling, bla bla bla, beh, questa è una carta fenomenale. Questo se riceve più 3 va a meno 90 equilibrio, va a 90 la composure, 88 la reattività almeno, più migliora la finalizzazione di tutto, questo può diventare potenzialmente una delle carte più forti del gioco. L'86 sicuramente perderà tanto, dropperà tantissimo sul mercato, in realtà per adesso è salita, ma secondo me scenderà poi, però è esterno questo attaccante. Non lo so, comunque questa carta è pazzesca, il prezzo al momento è disumano, non so che prezzo si fermerà o soffermerà, però è una carta probabilmente tra le più forti del gioco. Coutinho, altra carta, non cazza, altra carta da un prezzo abbastanza elevato, ovviamente più forte della versione 88 che era anch'essa trequartista, ma ancora una velocità scatto non incredibile, sicuramente accelerazione incredibile, dribbling eccezionale, 5 skill, solo 4 piedevole, non un finalizzatore pazzesco, passaggi ottimi, fisicamente inutile, è un trequartista, un trequartista brasiliano, è agile, accelera negli spazi, brevi, prende velocemente velocità, fluidissimi movimenti, skiller pazzesco, non un grande finalizzatore, però insomma è una carta veramente molto divertente, non vale assolutamente 3 milioni per me, sicuramente se prende più 3 rivale, però al momento insomma è comunque fortissimo, anche lui fortissimo, i prezzi è un po' da vedere però anche questa carta eccezionale. Anthony Marziale ha un 4-4, si porta dietro l'equilibrio che è migliorato ma rimane comunque 88, quindi anche lui però con gli upgrade potrebbe diventare molto 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 forte, anche lì cambio di campionato, quindi sicuramente il Liga ci dà un giocatore utilissimo per il campionato, perché corre tanto, sembra essere un buon giocatore a segnare, il suo bite per me è un po' fracete quest'anno, il passaggio solamente nel corto nonostante visione è un effetto pazzesco, quindi al tiro giro potrebbe essere migliorato di brutto, forza fisica, forte di testa, anche questa è una carta veramente super completa e per la Liga Santa, questo qua è un giocatore che serviva. Per quanto non abbia 5 skill e 5 piedebole a questo prezzo non spenderei mai così tanto per Marziale, perché appunto è un 4-4, però in Liga mancavano attaccanti del genere. Poi abbiamo Gabriel Martinelli, 4-4, esterno e sinistro, bella carta, anche questa per me neanche a 800k livale, perché corre tanto, dribbling eccezionale, però la reattività e la Composure non raggiungono vette assurde neanche con un più 3, fisicamente rimarrà non incredibile, anche perché all'indie body type, il tiro dalla distanza e tira il volo rimarranno un po' me, i passaggi lunghi un po' me, insomma la carta comunque non completissima e anche con l'upgrade non rimarrà così, insomma. Sicuramente forte, sicuramente corre, sicuramente ottimo dribbling, non ci spenderai più di 4-500 mila crediti, poi da vedere insomma, forse anche meno ci spenderai, forse so, anche addirittura alzando un po' il drop, però carta decente. Alex Sandro, bel prezzo, già così sulla carta, peccato un tra tre perché le alternative sono Spinazzola e Teornandez, questa è più un'alternativa a Teornandez che a Spinazzola, secondo me, e per i link, perché Spinazzola è un 5 skill, quindi non è faragonabile a questo Alex Sandro e costa pure meno, 140. Questo Alex Sandro è un po' più fisico, quindi forte fisicamente, sicuramente sarà bravo in difesa, palla al piede sarà il giusto, bravo, passaggio corto ok, buona velocità, però non mi aspetto un giocatore perfetto, cosa che invece magari Spina piace veramente a tanti, poi sono uscite anche altre carte che sono adattabili anche a meno intesa, è da provare anche lui, però secondo me sarà più un'alternativa a Teo che a Spinazzola, dipende che tipo di difensore di terzino cercate. Poi abbiamo Jonathan Bamba, 4-4, solita carta di Bamba, core, dribbling validissimi, tiro migliorato ma non un fine editore pazzesco, buon passaggio ma non incredibile, solita carta di Bamba. Questo se riceve un upgrade anche qua ovviamente migliora fine editazione e passaggio e diventa un altro giocatore, questo prezzo comunque non è malissimo, quindi c'è un buon prospetto su di lui. Sisoko sembra essere tornato a quello dei tempi, difensivamente forte, fisicamente pazzesco, ottima vista scatto, peccato accelerazione, l'equilibrio e l'agilità che uniti al suo boytap secondo me non lo renderanno particolarmente agile e fluido, però come Mediano un po' la Viera, anche se quest'anno non è tanto il gioco dei Mediani ne la verrà, potrebbe rendere tanto e con il più tre potrebbe veramente essere incredibile questa carta. Pedro, bell'esterno destro 4-5, 99 agilità, 99 equilibrio e 99 accelerazione, peccato l'82 velocità scatto che rovina la carta perché poi sappiamo già avere un tiro a giro pazzesco, controllo non malissimo, passaggi decenti, quella velocità scatto potrebbe rovinare la carta, penso lo proverò, sulla carta vale questo prezzo se vi piace il genere di giocatore, lui va messo però sul tiro a giro. Atal, versione terzino destro, vabbè solito Atal, peccato che 4-5 non 5-5 in questa versione, carta comunque eccezionale, l'upgrade sull'85 secondo me si sente di brutto anche perché in difesa e fisico in particolare si sentirà, tiro migliorato, buon passaggio, buona velocità e buon dribbling, comunque è una carta abbastanza valida e... cioè è valida, è molto forte, più che altro non è superiore secondo me a una Kimi Toti, è superiore sicuramente a Klaus, in particolare con gli upgrade che potrebbe prendere ma non lo mettere davanti ad Akimi Toti, ecco se ce l'avete. Rodrigo, 4-3, peccato per il tre piede debole, 84 equilibrio, questa è una carta utile per una low cost, poi qualora ricevesse qualche upgrade bene ma l'equilibrio non lo migliora più di tanto, anche se è l'indie boite, quindi agilità dribbling potrebbero migliorarlo, buona corsa, un finanziatore decente, passaggio solo nello stretto e un buon fisico, questo non è male comunque per una low cost, per la tre piede debole a questo punto del gioco. Sirgu, classica carta che ci serve a poco e niente, diciamo che c'è utile per il link come portiere perché comunque non abbiamo più donna room, avendo solo Mignan, Czesni, Handanovic, ci serve un giocatore italiano, è un metro e 92, quindi sicuramente con queste statistiche un eventuale upgrade potrebbe essere una carta interessante per il link. Vertonghen, ma secondo me questa è un'ottima carta, peccato l'agilità e l'equilibrio perché poi in difesa comunque è valido, fisicamente valido, non neanche intercettazione, velocità scatto 8, ma per oggi l'equilibrio lo rendono un po' secondo me macchinoso lasciare un po' perdere anche per link assenti. In campie è l'ennesimo difensore che corre in Bundesliga, è alto un metro e 84, è agile, il difensivamente non sembra male, mi aspetto sia il classico difensore che ha una buona corsa ma fisicamente non sia incredibile per via dell'indel body type che difensivamente aiuti ma non sia automatico, sia preciso però negli interventi che fa e che sappia passare il pallone e impostare. È carina, ricordiamo che però arriva da una carta di versione 70 quindi gli upgrade di queste carte sono sempre un po' così così. Ora, queste sono le impressioni che ho, comunque mi sembra che hanno fatto un'ottima promo con ottime carte, ci sono tante alternative interessanti, fatemi sapere cosa pensate e quale vorreste che provassi e noi ci vediamo nel prossimo video. Bella a tutti!